E' la prima tappa di un progetto pilota tra Comando Marina Militare di Brindisi e WWF Puglia con la collaborazione dell'Osservatorio Faunistico Regionale dell'Amministrazione Comunale di Brindisi. Un progetto nato dalla volontà di tutelare le specie faunistiche presenti nel territorio, ma con obiettivi rivolti principalmente alla tutela dell'ambiente. A spiccare il volo questa mattina dal castello Slevo di Brindisi, che ospita la base navale della Marina Militare, dopo un periodo di tempo di riabilitazione durato dai 3 ai 12 mesi, rapaci come falchi, geppi, gufi, civette, poiane e anche alcune tortore dal collare ed una cornacchia grigia. Animali che dopo aver riacquistato la libertà potranno contrastare la fauna aggressiva che in questo periodo ha affollato la città di Brindisi. Abbiamo cominciato col combattere la legionella che come si sa è causata da insediamenti di colombi e piccioni. Quindi questa rintroduzione di rapaci dedicati, che hanno come prede questo tipo di volatili, è sicuramente la cura naturale per allontanare la legionella da questa nostra città. Stiamo facendo uno studio ovviamente con questi esperti dell'osservatorio e del WWF per reinserire anche dei chirotteri, quindi i cosiddetti pipistrelli che ancorché abbiano una fama un pochino misteriosa, sicuramente ci liberano da insetti molto fastidiosi come le zanzare che possono anche portare febbri e malattie collaterali. È una manifestazione sicuramente suggestiva che è consistita nella liberazione di alcuni uccelli, prevalentemente uccelli rapace, che praticamente faranno da antagonisti ad alcune altre specie di uccelli che purtroppo sono in sovrappopolazione e che creano un sacco di danni all'ambiente. Una giornata importante, oggi abbiamo realizzato qui dentro il comando della Marina Militare in collaborazione con l'osservatorio regionale faunistico per la liberazione di gheppi, di rapaci, uccelli che possono contrastare in natura l'invasione di uccelli come i colombi che stanno infestando le nostre città, stanno infestando i castelli, i monumenti e abbiamo pensato con un progetto, questo è un progetto pilota, di contrastare con metodi naturali, quindi con l'inserimento di questi uccelli. È un'iniziativa che ne prevede altre, prevede questa collaborazione con la Marina Militare e il coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Brindisi. Un evento che è importante per la natura e l'ambiente perché finalmente si decide di contrastare evitando questo tipo di infestanti, evitando i metodi chimici, i metodi non naturali. Per cui per il WWF è una tappa importante e su questa tappa noi investiremo, continueremo a spronare anche altre amministrazioni pubbliche ad adottare sistemi di questo tipo.